Sicuramente non abbiamo il tempo neanche di godersi la vittoria contro il Cagliari, l'abbiamo già chiuso dopo 2-3 giorni, dobbiamo iniziare a lavorare per l'Alasio, oggi è una partita sicuramente molto molto difficile, dobbiamo iniziare a giocare come giochiamo in casa in trasferta, quindi sarà una partita dura, però ce la giochiamo, abbiamo molta fiducia da iniziare a fare il nostro percorso bravo in trasferta. Una bella sfida tra attacchi fortissimi, da un lato noi con te, Hernandez, Fabrizio, dall'altro lato Sisse, Close, ovviamente ci sarà da divertirsi. Certo, certo, ci sarà da divertirsi perché la gente spera che abbiano tanti gol in questa partita, quindi speriamo che siano più per Palermo che per l'Alasio.